buongiornissimo super fratelli e benvenuti alla nuova avventura con la squadra bardellis qui oggi siamo in alta valsesia con esattezza siamo appena sopra dalagna nell'ultimo parcheggio dove iniziano poi anche delle piste da sci che ancora non è niente nevato è arrivato il freddo quello che piace a noi quello dei meno tre gradi siamo saliti qua in alto perché stanotte mi ha fatti tipo meno 5 e ho installato fa al mezzo delle cose nuove sul furgone ci ne basto ho fatto della coinventazione particolare e ho creato dei mobili all'interno nuovi che voglio farvi vedere in un vantù se vi interessa scrivetelo qui sotto nei commenti così almeno vi faccio vedere che cosa ho combinato niente oggi giornata semplice un 500 di dislivello andiamo su verso il rifugio pastore che attualmente è chiuso perché è inverno pieno facciamo scorazzare il piccolo teoteo con la sua nuova giacchettina rossa cercando un po di neve perché non ha ancora mai visto la neve e vorremmo fargli fare questo primo salto questi primi salti nella neve niente seguiteci ci diamo un po di avventura e come sempre vi dico andiamo di là di là rifugio pastore oggi rifugio pa sto non mi caga mai io eccola che spunta dai colle incontroluce grazie la risina teo rifugio pastore di qui che cavolo teo comunque all'interno all'interno del van ho ricostruito in due settimane per quello che non sono usciti i video perché sono stato praticamente nella mia pseudo falegnameria artigianale che ho sotto il magazzino a rifare tutta la parte dietro del furgone ricreando una dinette fatta tutto il legno con la parte dei letti tutto quanto e stanotte abbiamo dormito per la prima volta su uno dei materassi di quelli dell'ultima generazione che dicono che dovrebbero fare bene alla schiena scusate se mi impappino ma ogni tanto fa proprio freddo e la bocca rimane così comunque dovrebbe diciamo migliorare il sonno prima cosa e seconda cosa anche stressare di meno il fisico sembrerebbe di sì siamo un po certo teo no teo vieni qua finita la pausa le cazzate di teo comunque vi dicevo che tutto questo ambaradam insieme compresi i cuscini tutto il resto siccome lavoriamo tutte e due sempre sette su sette ogni tanto riusciamo a farci questi weekend ogni tre settimane di tre giorni però bene o male sia sempre sotto a martellare di lavoro dovrebbero farci proprio riposare quando siamo all'interno del mezzo prima poi la mattina di partire e metterci in cammino da qualche parte nel bosco per una nuova avventura e teo hai visto questa la tua prima neve paesaggi incantati mi sa che a rifugio ci siamo già arrivati è stata abbastanza veloce con la salita alla fine un'ora 400-500 di slivello la resina c'ha proprio ragione col contrasto delle montagne dietro boom tipico paesino con case valser di montagna che meraviglia che sono prima neve per teo ma anche prima neve della stagione dopo che l'anno scorso ne abbiamo vista veramente poca ma più che altro perché c'era il povero jacky che non stava bene proprio nel periodo invernale l'anno scorso non ci siamo goduti tanto la montagna dunque anche per quest'anno finalmente un po di neve è arrivata arriva ancora secco è perché vai a spiare spiona a dici magari c'è il bivacco invernale bivacco magari invernale guarda questo qua questo bivaccatore invernale neve 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 un buttaglione in faccia è un po' così che bastarda che sei rifugio pastore guarda che bella fotografia così boom guardate che spettacolo così signore e signori la parete sud del monte rosa che spettacolo lari sta scolutando col binocolo si vede la capanna margherita proviamo a vedere adesso con l'obiettivo della macchina fotografica vediamo se riusciamo a portarla ai nostri telespettatori oh fratelli dal binocolo sembra che c'è lei qui si vede da paura cerco di inquadrarla speriamo ve la voglio troppo portare sul canale sta roba qua è fighissima beh comunque non si vede benissimo ma è lì quel quadrato lì in mezzo all'obiettivo adesso quella è la capanna margherita alla fine lari oggi cosa diciamo una cosa visto che è un po' che non facciamo cosa testiamo oggi ministra pollo ministra di pollo della knorr knorr diamo subito i nostri consigli culinari su roba leggera e buona dai cosa vuoi si mangio anche te non ti preoccupare tu basta mangiare schifezze in giro ti abbiamo visto cioè porti il tuo cagnolino per la prima volta sulla neve e lo porti sotto la parete sud del monte rosa diciamo che siamo un po' bravini e ci complimentiamo con noi stessi e gli vogliamo un sacco bene purtroppo purtroppo è così gli vogliamo un sacco bene qualsiasi sia stato il nostro animale compresa la risina il mio animale preferito lo scogliattolo la risina tutti i nostri animali li vogliamo un sacco bene comunque la parte più importante ragazzi del nostro pranzo di oggi è il famosissimo panino dell'orto fatto dal panificio Bardelli Bardelli più sani più belli più magri più snelli ragazzi la risina giudizio sulla zuppa della Knorr è proprio buona non ci vuole tanto per cucinare è gustosa è gustosa è gustosa è come dici papi e allora fratelli adesso mi rinchiudo un'altra volta nella mia baracopoli nella barcaverna per finire gli ultimi lavori che sto facendo gli ultimi lavori non saranno mai gli ultimi perché dentro sta capa ne viene sempre fuori ogni settimana anzi ogni giorno una novità comunque finirò quello che è in mente per questa settimana se il video vi è piaciuto mi raccomando sempre un bel like iscrivetevi al canale vi ricordo che vi vogliamo sempre un sacco bene mi raccomando seguiteci dappertutto su tutti i nostri social ci vediamo al prossimo video se la programmazione va rilento perché richiede veramente tanto lavoro e sto mettendo anche via sto anche iniziando a segnare tutte le gite che verranno tutte le nostre nuovissime avventure che verranno nelle prossime settimane ciao a tutti fratelli ci vediamo alla prossima ciao ciao